Ecco, probabilmente senza offesa, si potrebbe dire, in questo tremendo mondo, in questo porco buco che si chiama, sì, immondo, senza mai volerlo, senza mai desiderarlo, in questo che si chiama, non importa, situazione donna, certo, antenati sconosciuti, terribile impatto, non importa, senza nessun passato, lampo improvviso, passato rifiutato, come se si trattasse, certo, di un castigo, lampo improvviso dei suoi peccati, ipotesi cancellata non ne aveva, ma li doveva espiare, essendole sempre stato insegnato in questo porco, sin da bambina, sì, a patire, destino tremendo rifiutato, certo, lampo improvviso da rottura, che poi era la fine, appena il tempo di non importa, nessun affetto, senza poter più credere, sì, nell'importanza della famiglia.